Ciao, lo sapevi che con GoWeb puoi trascinare i servizi direttamente in agenda, in questo modo, tramite la funzione drag and drop. Inoltre vi ha la possibilità di selezionare più servizi contemporaneamente, spuntandoli e ovviamente selezionando il cliente, cliccando su aggiungi, li visualizzerete tutti in agenda, allo stesso istante. Grazie, restate connessi, ciao, alla prossima!